Sì, buona prestazione, ma non è arrivato il risultato positivo. E invece, la donalisi di questa gara qual è, Luca? Le squadre oggi sono scese in campo con la massima concentrazione e si sono date battaglia fino all'ultimo minuto. Siamo ai saluti finali. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Grazie a te, Fabio. Grazie a te. 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 Grazie a te.